ma cosa viaggia? meta verde, meta blu, qui abbiamo il motore elettrico primo allenamento, vabbè devo prenderci la mano, ha moltissima coppia questo è bello grande adesso la sto facendo provare a diego perché può provarla, com'è diego? non è male anche a te piace o vederla da qui ancora più bella anzi non so se è più bella guidarla o vedere che la guidino ah lì sembra una bicicletta prima ho fatto questo ostacolo qui è un metro di sasso ma che strano che è e sono i primi cinque minuti che sono su questa moto ma c'è non avere motore ma c'è c'è il motore ma non c'è il rumore cosa mi si è spenta la moto aspetta bisogna prenderci un po' la mano ragazzi ho comunque l'interruttore di emergenza magnetico perché pur non avendo il motore termico può rimanere accelerata però in questo caso finché non c'è contatto non va facciamo ancora un po' di trial ho sull'abbigliamento del team future fatemi sapere nei commenti se vi piace anche a voi grazie 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 grazie